ecco il workflow della gestione del quaderno parliamo di quaderno di carta agganciandoci anche al quaderno digitale multicanale creazione di pdf quindi consegna del quaderno correzione del pdf restituzione del quaderno ma parliamo anche di one note il miglior quaderno digitale e di altre applicazioni che sono correlate all'interno di questo processo alla fine del processo che adesso vi illustro di come impiegare il quaderno di carta dello studente in ambito digitale parleremo del quaderno di carta e del rapporto tra il quaderno di carta e il quaderno digitale adesso cominciamo a vedere invece quali sono le operazioni concrete da fare per gestire il quaderno di carta dello studente in ambito digitale prima di tutto scaricate nel vostro dispositivo adobe scan questa è l'applicazione base l'applicazione fondamentale che utilizziamo per questo processo qui avete il link benissimo poi entrate con un id adobe o createne un gratuito uscite dai tutorial e selezionate la voce documento e notate che esiste anche una voce lavagna all'interno di adobe scan per riprodurre le lavagne quando si è in classe poi scattate una foto ne scattate un'altra e scattate tutte le foto delle pagine necessarie vedrete che adobe scan posiziona tutto correttamente lo fa lui in modo automatico naturalmente potrete anche modificare manualmente il risultato di queste scansioni poi quando l'operazione è terminata basta fare un tap sull'icona delle foto scattate adobe scan crea automaticamente un perfetto pdf anzi non solo ma lui tenterà dico tenterà perché è un'operazione comunque complessa tenterà anche di interpretare la scrittura manuale che vuol dire che si potranno poi svolgere delle ricerche con acrobat all'interno del testo ma questo non sempre produce dei risultati all'altezza però è interessante che questa funzione esista quando avete creato il vostro pdf bisogna utilizzare il solito strumento di condivisione abbiamo due varianti di condivisione condivisione attraverso un link e quindi poi il tutto rimarrà nel cloud di adobe oppure condivisione di una copia fisica a noi interessa condividere una copia fisica perché perché la copia fisica poi la possiamo trasferire direttamente su drive oppure in classroom oppure in zoom se usiamo questa applicazione per svolgere delle conferenze o web ex quello che è o ed ecco una funzione molto importante one note naturalmente possiamo trasferire chiaramente la nostra copia la possiamo trasferire anche in acrobat cioè la possiamo aprire all'interno di acrobat ma poi la dobbiamo consegnare al docente quindi stiamo parlando proprio di questa operazione cioè lo studente che il digitalizza il suo quaderno crea un pdf lo porta all'interno di una dropbox di un iCloud one note class room drive eccetera lo stesso vale per l'insegnante l'insegnante ha scansionato un documento la parola parte di un libro una dispensa eccetera e con lo stesso identico sistema la trasferisce ai suoi studenti adesso vediamo concretamente come si svolgono queste operazioni con gli strumenti alla mano quindi l'ipad il computer e le diverse applicazioni apriamo adobe scan ci sarà da inserire l'id da fare il login chiaramente in questo caso abbiamo un documento un opuscolo adobe scan cerca di individuare la pagina vedo fa abbastanza bene da solo in modo automatico noi possiamo aggiustare eventualmente poi continua quindi ci posizioniamo su un'altra pagina ecco anche qui lui ricerca il documento dopodiché trova gli angoli e comincia l'acquisizione che anche in questo caso viene abbastanza bene e che possiamo ancora aggiustare manualmente continua andiamo avanti così e poi qui in basso abbiamo le due immagini che ci consentono poi di creare il pdf quindi salva pdf prima di salvare il pdf ovviamente dobbiamo cambiare il nome al pdf stesso bisogna dirlo agli studenti perché altrimenti arrivano dei file che hanno tutti la stessa identità scansione dell eccetera eccetera abbiamo scansionato un documento ecco come invece si presenta la scansione di un quaderno abbiamo già realizzato il pdf le pagine sono state unite la qualità è molto buona noi adesso abbiamo questo pdf che cosa possiamo fare abbiamo un pulsante condividi qui e poi lo stesso pulsante condividi l'abbiamo nella home vedete condividi è la stessa cosa notate che ci sono due possibilità di condividere condividi come collegamento ma condividolo come collegamento significa che questo documento viene trasferito nel cloud di adobe e quindi poi l'altra persona lo dovrà scaricare dal cloud se invece noi lo sistemiamo in una cartella o in un quaderno già condiviso l'utente lo ritroverà immediatamente quindi preferiamo utilizzare l'opzione condividi una copia cioè trasferiamo proprio la copia fisica al nostro studente o lo studente a noi vedete che trasferendo la copia fisica a parte le mail e messaggi che non sono il sistema migliore c'è la possibilità di copiarlo direttamente su one note che vedremo tra cinque minuti oppure all'interno di drive oppure anche in zoom webex eccetera in modo tale che sia già disponibile per quelle attività didattica a distanza teleconferenze e così via proviamo ad aprirlo all'interno di drive vediamo che cosa succede quindi ci chiede se lo vogliamo aprire con il drive dell'istituto scolastico ma diciamo di sì altrimenti possiamo cambiare l'account ci dice che tutti i caricamenti in sospeso sono stati completati trova il documento che è qua per prima cosa dobbiamo spostare il pdf vi ricordo che siamo in drive quindi lo prendiamo sto usando l'ipad con l'applicazione drive all'interno dell'ipad e ovviamente poi dopo averlo sistemato all'interno di classroom lo potremmo collocare nella cartella destinata a una classe torniamo al lato insegnante abbiamo ricevuto i quaderni dei nostri studenti che cosa possiamo fare partiamo di nuovo da drive apriamo il quaderno e prima di tutto lo possiamo correggere con l'applicazione acrobat se scegliamo apri in cerchiamo acrobat import in acrobat e poi abbiamo la funzione commenta funzione commenta che ci permette di aggiungere per esempio un box di testo possiamo ovviamente aumentare o diminuire l'ampiezza del testo cambiare colore fare quelle operazioni tradizionali possiamo anche scrivere e quindi annotare in vari modi e quindi fine noi ci troveremo con questo quaderno annotato che possiamo poi attraverso lo strumento di condivisione condividi una copia lo possiamo spedire ai nostri studenti tramite il solito sistema quindi drive nella cartella che loro hanno in condivisione con noi o con altri sistemi quelle che abbiamo scelto torniamo ancora una volta ad adobe scan per ritrovare il quaderno e vedere come lo possiamo condividere e correggere con un altro tipo di applicazione che è un quaderno multicanale un vero e proprio quaderno digitale multicanale quindi non con un sistema di condivisione cloud e poi l'apertura attraverso acrobat ma con uno strumento che si pone quasi in antagonismo rispetto al quaderno tradizionale allora sempre tap sulla opzione di condivisione condividi una copia e questa volta cerchiamo one note quindi copia su one note su one note abbiamo creato un documento particolare è un quaderno blocco degli appunti che abbiamo chiamato scuola e che abbiamo condiviso con i nostri ragazzi abbiamo condiviso alcune cose che stiamo facendo con loro quindi lo inseriamo all'interno della sezione quaderni chiede molto importante prestate attenzione chiede se dobbiamo inserire il file cioè il pdf del quaderno come allegato nel qual caso noi vedremo una semplice icona e non vedremo tutto il quaderno esploso all'interno della pagina oppure come fai l'immagine noi scegliamo proprio come fare l'immagine perché poi il risultato è questo eccolo abbiamo la nostra pagina nuova che è stata creata e qui c'è tutto il quaderno con il file proprio il file in pdf originale che è qui ma allo stesso tempo possiamo vedere le pagine le pagine esplose all'interno di questa pagina creata in one note ripeto siccome noi abbiamo condiviso questa sezione lo studente vedrà quello che noi faremo e che cosa faremo ma è semplice prendiamo gli strumenti di disegno qui in alto e poi cominciamo per esempio ad annotare oppure a evidenziare facciamo tutte quelle operazioni che dobbiamo fare normalmente abbiamo anche a disposizione diversi strumenti con diversi colori così via possiamo cancellare eccetera insomma abbiamo tutto quello che ci occorre per poter correggere questo quaderno ma abbiamo anche qualche cosa in più vedete che è molto ampio lo spazio di lavoro questo addirittura troppo però che cosa possiamo fare possiamo fare questa operazione possiamo scrivere nello spazio bianco per esempio evidenziando questa parte scrivendo anche delle annotazioni così disegnando facendo degli schemi scrivendo delle formule matematiche insomma possiamo fare tutte quelle operazioni che sono necessarie per dare degli strumenti ai nostri ragazzi e ovviamente possiamo continuare che cosa succederà e succederà che noi avremo delle annotazioni interne alla alla pagina del quaderno e delle annotazioni esterne ovviamente possiamo utilizzare tutte le opzioni necessarie che si presentano nelle classiche applicazioni di video scrittura sono i soliti strumenti dove voglio arrivare voglio arrivare al fatto che lo strumento di condivisione di questa pagina presenta proprio l'opzione di inviare una copia della pagina inviarlo ovviamente attraverso un'applicazione che può essere un'applicazione di posta elettronica che io sconsiglio sempre vivamente o di condivisione per esempio di copia su drive e che cosa succede succede che one note crea proprio un pdf eccolo qua un pdf di tutta l'area di lavoro quindi non solo del del quaderno che c'è stato consegnato dallo studente e questo è quello che lo studente può ricevere all'interno della cartella o delle modalità di restituzione del lavoro che abbiamo deciso concordato per svolgere le nostre operazioni di in classe ho aperto one note dal computer e ritrovo esattamente il lavoro che ho fatto nell'ipad ciò significa che posso lavorare con tutti gli strumenti di cui dispongo e in qualsiasi circostanza voglio richiamare però la vostra attenzione sui meccanismi di condivisione abbiamo detto che questo quaderno è stato condiviso con gli studenti questo significa che gli studenti possono vedere in tempo reale quello che io sto facendo con i loro quaderni ma potrei anche aver dato ai miei studenti l'opportunità di lavorare all'interno di queste pagine e quindi nasce una relazione questa è una modalità ma io potrei anche invece preferire di utilizzare one note a titolo personale quindi ho ricevuto il quaderno correggo scrivo quello che devo scrivere annoto eccetera e poi lo condivido con loro ecco sono due modi diversi di operare con one note però che cosa abbiamo chiarito abbiamo chiarito che esiste un rapporto un rapporto molto interessante fra il quaderno di carta che ripeto a mio parere è uno strumento indispensabile ed è bene che gli studenti lo utilizzino in un certo modo con continuità e un quaderno multicanale un quaderno multicanale che consente come avete visto di arricchire l'esperienza del quaderno di carta queste due cose possono marciare tranquillamente insieme i sistemi di condivisione che abbiamo analizzato poi completano il quadro e ci offrono tutte le possibilità per lavorare in modo proficuo con i nostri studenti sia a distanza ma anche in classe perché queste operazioni le possiamo fare indipendentemente dalle condizioni in cui ci troviamo a lavorare facciamo ora qualche riflessione pedagogica il quaderno di carta è un elemento centrale anche in una didattica a distanza per quale motivo perché in una didattica a distanza gli insegnanti sono portati utilizzare diverse applicazioni a volte anche dei quaderni multicanali digitali molto interessanti molto ricchi oppure perché non hanno una preparazione non sono interessati cercano di continuare con un sistema tradizionale quindi utilizzano degli strumenti semplici per svolgere questi compiti a distanza il risultato è che lo studente si trova di fronte a una moltiplicità di soluzioni di proposte che è difficile che possa governare anche perché non c'è il tempo né di fare formazione e di studiare un sistema integrato lasciando ovviamente poi tutta la libertà necessaria agli insegnanti e ovviamente anche agli studenti ecco che quindi il quaderno di carta diventa come dire il lancora di salvezza il lo strumento principale che lo studente continuerà a utilizzare anche in un rapporto a distanza diciamo subito che non siamo qui per fare una graduatoria di importanza fra il quaderno di carta e il quaderno multicanale però vi devo dire che il quaderno di carta è indispensabile proprio uno strumento di crescita per quale motivo perché come vediamo subito ci sono delle differenze delle differenze importanti che determinano la specificità dell'uno e la specificità dell'altro che fanno sì che noi possiamo utilizzare un quaderno di carta per determinate operazioni e preferire un quaderno multicanale per farne altre però c'è un rapporto fra la concretezza del quaderno di carta e l'astrazione del quaderno digitale che non possiamo ignorare nel senso che non è possibile sviluppare un processo di astrazione se non si è consolidato un rapporto concreto con la realtà cioè empirico e dall'esperienza che nascono i processi che poi possono negare l'esperienza stessa attraverso un meccanismo di astrazione e quindi noi non possiamo negare allo studente l'utilizzo di un quaderno di carta e soprattutto non solo lo dobbiamo incentivare ma lo dobbiamo seguire perché il quaderno di carta è uno strumento di crescita cognitiva di fondamentale importanza senza la quale ci sarebbero dei buchi nel nel processo cognitivo dello studente verso i gradi più alti dell'astrazione questo non sono io a dirlo è tutta la letteratura psicopedagogica a partire dalla dagli studi di Vygotsky però dobbiamo anche considerare che ci sono alcuni aspetti che sono simili per esempio una penna una penna per scrivere su tablet per esempio presenta degli aspetti concreti che fisici proprio come una penna una birra che viene utilizzata per scrivere su un quaderno di carta è molto simile soprattutto il il toccare l'oggetto il prenderlo il trascinarlo però c'è una differenza molto importante che riguarda il fatto che uno strumento di scrittura su un quaderno di carta rilascia un inchiostro o rilascia una grafite rilascia un materiale questo materiale determina una resistenza sulla carta che non esiste invece in un quaderno multicanale in un quaderno digitale è il quaderno cioè l'applicazione che simula il processo dell'inchiostro ma non c'è nulla che la penna rilascia e dunque non esiste questa resistenza sì esiste una pressione a volte ma non esiste una resistenza lungo la pagina e questo fa sì che la percezione di scrittura attraverso una penna digitale non sia la stessa di una di uno strumento di scrittura sul quaderno di carta non è lo stesso e e oltretutto c'è anche un altro aspetto che quello del controllo grafico che nei due casi è molto diverso che aumenta questa differenza il controllo grafico che si esercita su un quaderno di carta è un controllo che nasce da un'esperienza continua che si genera fin da quando si è molto piccoli e che poi viene educato a scuola viene educata a scuola attraverso l'insegnamento della grafia che tra l'altro diciamo anche che purtroppo viene sempre meno seguita la scrittura e questo è un male si lasciano scrivere i ragazzi con diversi strumenti si tralascia il corsivo vedo delle cose veramente assurde in questo campo e che andrebbero corrette però per tornare al nostro discorso questo del controllo grafico un processo che il bambino esercita fin da quando è molto piccolo quindi è molto naturale per lui e all'insegnante non resta che inquadrarlo in qualche modo e perfino nei casi di disgrafia è sempre possibile ottenere dei risultati ed è importante sostenere questo controllo grafico perché è qualche cosa a cui il bambino è abituato e che l'insegnante deve solo aiutare inquadrare a sviluppare e gli dà delle competenze delle abilità che sono relativamente facili da acquisire e allo stesso tempo permette di avere una percezione degli spazi delle linee e anche della bellezza con la quale la scrittura si esercita il segno grafico si compone nella pagina invece in un ambito digitale è molto più complicato perché perché un quaderno multicanale può avere al suo interno tantissimi elementi pulsanti tutta l'interfaccia grafica il la possibilità di inserire immagini di disegnare di scrivere quindi siamo di fronte a una una ricchezza che distrae non solo distrae ma per governare la quale è necessario acquisire delle competenze in merito alla percezione visiva la comunicazione visuale alla composizione grafica della pagina che non sono cose semplici ci sono leggi e i rapporti tra i colori i font che è possibile utilizzare che possono essere addirittura anche centinaia ecco ci sono tutta una serie di leggi che non sono leggi naturali vale a dire sono leggi che si rifanno naturalmente alla percezione naturale che l'occhio umano il cervello hanno della realtà e quindi tendono a proporre un determinato ordine ma non sono naturali perché la composizione di tutti questi elementi assolutamente artificiale e deve seguire delle leggi cosa ben diversa rispetto al controllo grafico che nasce fin da quando il bambino all'età di un anno prende la matita e cerca di comporre qualche cosa sulla pagina non è la stessa cosa qui si cresce con delle brutte abitudini qui le brutte abitudini invece vengono corrette e brutte abitudini qui in campo digitale significa acquisire delle cognizioni sbagliate non esercitare e non coltivare il senso della bellezza di cui ho parlato prima non coltivare il senso dell'ordine della composizione degli spazi della grafica e quindi non avere una posizione corretta nell'ambito della propria capacità di espressione e quindi di comunicazione dunque vedete queste differenze altre poi che ci sono come per esempio non so la lentezza di scrittura in un quaderno la velocità con cui si opera a livello multimediale con le specificità di queste due caratteristiche la lentezza che consente anche di riflettere la velocità che invece privilegia il giungere un obiettivo il fatto che la correzione sul quaderno sia più complicata perché qualsiasi correzione è un pasticcio tra virgolette rispetto all'esercizio di un controllo grafico mentre il su un piano digitale la correzione non ha nessuna importanza perché si può comporre tutto poi correggere anche alla fine dunque mentre in questo caso la lentezza ci obbliga una riflessione perché non possiamo passare il tempo a correggere tutto quanto qui invece la velocità ci spinge a riflettere meno e ad andare avanti sono processi radicalmente diversi non possiamo mettere sullo stesso piano e soprattutto non possiamo non sostenere in un momento di crescita e di sviluppo del bambino ma anche del ragazzo più grande non possiamo non sostenere le sue capacità di riflettere di controllare il processo mentre qui il processo tende a sfuggire di mano e a presentarsi anche in modo troppo semplicistico benché non ci sia niente di così semplici se poi andiamo a studiare appunto le leggi della composizione e tutto il resto io tra l'altro utilizzo i quaderni anche con i ragazzi grandi quelli che poi finiranno la scuola e avranno dovranno andare incontro all'esame di stato e insisto molto loro utilizzano dei quaderni piccoli poi li pinzano insieme io li curo li correggo sistematicamente do delle indicazioni è uno strumento importante uno strumento importante anche per la loro stessa organizzazione mentale su questo punto però voglio fare un webinar in seguito perché voglio proprio parlare di questo cioè di come l'insegnante può e a mio parere proprio deve deve riconsiderare tutta l'importanza che un quaderno di carta ha nel processo di apprendimento certamente ma proprio nel processo di sviluppo cognitivo delle capacità degli studenti infine prima di chiudere voglio rilevare che il quaderno multicanale ha una sua grande specificità in un campo in un campo nel quale esercita un predominio assoluto e cioè nel campo della multicanalità multicanalità significa che si trovano risorse fonti contenuti attraverso la rete diversi canali li si possono raccogliere tutti all'interno di un quaderno multicanale compreso comprese tutte quelle risorse multimediali audio video immagini disegni animazioni che possono essere trattate contemporaneamente dentro una pagina di un classico quaderno multicanale come abbiamo visto con one note da questo punto di vista non abbiamo approfondito molto però vi siete resi conto che è uno strumento che può contenere di tutto ecco questo tutto fa parte della ricerca dello studente per approfondire per cercare le fonti per sviluppare il suo senso critico eccetera questa operazione è possibile all'interno di un quaderno multicanale non è possibile con un quaderno di carta è evidente ma qual è il rapporto anche in questo caso tra le due opzioni beh il rapporto è che usiamo il quaderno multicanale per appunto ed operazioni relative alla multicanalità per strutturare per esempio un'impostazione un'impostazione che può essere anche una rappresentazione concettuale mentale attraverso mappe schemi timeline eccetera ma la trattazione dei contenuti deve assumere la loro forma espressiva in un quaderno e fino a che abbiamo degli studenti che devono crescere sul piano intellettuale poi quando saranno adulti decideranno se usare quaderni digitali o di carta ma questo processo il processo della raccolta della colletta multicanale deve essere completato a mio parere all'interno di un quaderno di carta cioè il passaggio dall'astrazione dal simbolico alla realtà alla sua concretezza e alla capacità di ordinamento che abbiamo visto prima che è naturale per lo studente o almeno dovrebbero e dovrebbe essere tale se nelle scuole elementari e la scuola media gli è stato insegnato a organizzare questo quaderno perché se non l'ha preso ovviamente siamo in una situazione deficitaria e disastrosa sotto tutti i punti di vista e non ci sarà strumento digitale che sarà capace di colmare questo handicap molto forte sul piano cognitivo bene io direi che per il momento è tutto su questo tema voglio organizzare un webinar più approfondito per esaminare tutta una serie di aspetti che a mio parere sono rilevanti però per quanto riguarda la gestione di un quaderno di carta attraverso strumenti digitali direi che il nostro compito è abbondantemente finito è andato oltre i limiti che ci eravamo preposti quindi direi che possiamo chiudere qui e per altri temi ci saranno altri interventi altri webinar quindi ci diamo appuntamento alle prossime occasioni ciao